Buongiorno a tutti, mi inserio oggi, prenderò oggi possesso del mio incarico e quindi andiamo avanti, speriamo di poter fare qualcosa di buono per la Calabria e per i calabresi soprattutto. Da dove parto? Bisogna vedere cosa vedo, prima bisogna vedere, bisogna vedere con i propri occhi, bisogna capire e poi si parte. Ovviamente è rilevante l'aspetto contabile e amministrativo ma è altrettanto importante la territorializzazione della prestazione sanitaria. C'è la legalità innanzitutto, ovviamente, perché la legalità porta servizi migliori, libertà di scelta e soprattutto risparmio. Però praticamente c'è anche l'altra esigenza, esigenza di migliorare qualitativamente lo standard di sanità in Calabria, bisogna migliorarlo.